Benvenuti amici dei fuoricamp, questo video di commento alla quindicesima giornata del campionato di Serie B, giornata che si è appena conclusa con la netta vittoria della Sanità sulla cara a rete, giornata che ha segnato un notevole, è stata caratterizzata da un notevole aumento, un nuovo aumento del numero delle reti, ben 34 in questo turno, erano diverse settimane che il campionato non tornava alle squadre, insomma non tornavano a segnalare questa buona prolificità, ma soprattutto il fatto del giorno è che il terzetto che addirittura sembrava poter minacciare a disco dei play-off ha differenziato il proprio rendimento perché il Sassuolo promette di fare corsa a sé e è stata l'unica a vincere delle prime tre, il Pisa ha di immediato un 2-2 più che lo cambolesco contro il Cosenza, lo Spezia invece ha perso la propria imbattibilità, era l'unica squadra imbattuta del campionato contro un Palermo che ha finalmente, ci possiamo ovviamente con il massimo rispetto per i tifosi dello Spezia, finalmente nel senso che ha raccolto quanto aveva seminato nelle precedenti gare casalinghe, anche oggi la squadra di Dionisi ha approcciato molto bene la gara, ha creato tantissime occasioni già nei primi minuti, nel primo tempo e ha chiuso con un 2-0 meritato. Mandando per l'Odine il Sassuolo ha fatto proprio il derby contro la Reggiana, il derby di prima, la prima volta assoluta di questi due squadri si affrontavano in Serie B ed è stata una partita non a senso unico perché comunque la Reggiana ha avuto le sue occasioni specialmente quella clamorosa di Lucchesi a metà del secondo tempo che magari avrebbe potuto anche cambiare l'andamento del match ma il Sassuolo in generale al di là dell'andamento di questa partita sta dando l'impressione di poter fare veramente il vuoto alle proprie spalle in tempi abbastanza brevi, è evidente, abbiamo detto più volte, la squadra di Grosso ha cambiato marce in maniera radicale dopo la fine del mercato, appunto le prime giornate sono state un po' di assestamento con molti giocatori che si pensava potessero essere ceduti, la partita persa nettamente in casa contro il Caramonese è stato il segnale più evidente e poi però il Sassuolo ha preso veramente a marciare a ritmi infernali, la quarta vittoria che si gustiva, la settima nelle ultime otto gare, nelle ultime otto ma soprattutto il Sassuolo dà l'idea di sapere cosa vuole, di essersi già calato nella mentalità di questo campionato, una squadra che non sempre magari domina le partite dal primo minuto, anche contro la Reggiana si è vista una formazione molto solida che ha coperto le linee di passaggio in maniera anche umile, nonostante comunque la netta superiorità dal punto di vista tecnico sull'avversario e ha poi colpito con le proprie individualità, il primo gol di Torsvede il secondo in ripartenza con una grande azione di Berardi, Tolian e poi con Murattieri, Grosso si sta quasi divertendo a cambiare l'ordine nelle proprie pedine in attacco contro la Reggiana addirittura ha iniziato con Pierini centravanti, poi è entrato Murattieri, ricordiamo che ci sono anche comunque oltre all'Oriente e Berardi ci sono comunque giocatori ancora anche come Moro, come Volpato, quindi un attacco che può addirittura anche essere intercambiabile in varie posizioni, praticamente con Pierini, ora sono tre i giocatori che possono essere schiati come centravanti, persino Torsvede che comunque non è un attaccante, ha già segnato sette reti, insomma una squadra che ha uno strapotere evidente in tutti i reparti, tecnico anche di mentalità e quindi insomma al di là dei punti di vantaggio che ora possono essere magari solo quattro sulla zona, sulla terza classifica, l'abbiamo detto nella scorsa settimana, il rischio concreto è che si giochi veramente solo per una piazza per la pronunzione diretta in Serie B e quella piazza è ora più che mai in discussione, probabilmente lo era già prima ma lo è tornata ulteriormente perché oltre a vittoria a Sassuolo l'altra notizia del giorno è la netta vittoria della Cremonese, è vero che il Suttirol in questo momento non è un avversario temibile ma insomma bisogna segnalare come il ritorno di Stroppa dopo la seconda partita, insomma dopo la vittoria magari più sofferta contro il Frosinone però insomma la Cremonese è sembrata avere tratto giovamento dal cambio di natore, l'ha detto anche chiaramente Vasquez, insomma sono il gruppo contento del ritorno di Stroppa, bisogna dire che nelle prime giornate c'era stato più di qualche svarione, ora invece la squadra sembra avere trovato la propria visione mia, il modulo è sempre quello, questo 3-5-2 che diciamo lascia ancora qualche dubbio però contro il Suttirol è stato molto Fiendan si è finalmente sbloccato anche se non con il gol ma con gli assist Van de Putte, quindi Stroppa continua sulla propria strada, insomma di incanalare i tanti trequartisti che ci sono nella rosa magari alcuni dei quali come Van de Putte come lo stesso buon aiuto in posizione più da interno, vedremo appunto se i fatti gli daranno ragione, De Luca si è finalmente sbloccato dopo i tantissimi errori sotto a porta, in particolare con Temprosinone ma non solo, vedremo sicuramente la Cremonese se si mette a girare, se tutti i giocatori anche magari quelli in parte fuori ruolo, comunque tutta la rosa inizia a essere anche poter essere sfruttata anche le gare in corsa, è una squadra che può benissimo addirittura anche mettersi sulla scena del suo suolo per dire perché come organico sicuramente la Cremonese non è inferiore né al Pisa né allo Spezia, la classifica dice ancora 6 punti al secondo posto, 7 dal terzo ma la classifica dopo 15 giocatori in Serie B lascia il tempo che trova e a differenza dei valori tecnici, quelli della Cremonese sono notevoli, quelli del Pisa e dello Spezia un po' meno e diciamo che la Spezia ha una sconfitta ci sta, tra l'altro una sconfitta maturata su due palle ferme che era sempre stato il punto di forza della squadra di Angelo, ma comunque al di là di questo il Palermo aveva creato già 4-5 occasioni nitidissime nei primi 30 minuti con un paio di parate notevoli di Gori, insomma un passaggio vuoto ci sta, lo Spezia stava già facendo tantissimo rispetto alle aspettative e ripetiamo comunque il Palermo ha sicuramente una rosa qualitativamente superiore rispetto a quella di Dionisi, meno comprensibile può essere il passo falso del Pisa, anche qui partenza sprint contro il Cosenza, due gol, anche un po' nel tram di calcio spettacolo nonostante le tante assenze in tutti i reparti, poi si è spenta la luce, la partita è girata con il rigore goffamente sbagliato da Marin che si è autocalciato praticamente, quindi si è calciato il pallone due volte dal dischetto quindi rendendo, obbligando l'abito di Bello, affischiamo un calcio in posizione per il Cosenza, lì la gara è cambiata, certo bisogna dire che il gol del 2-2 di Fumagalli è un euro-goal, insomma, che non si vede tutte le domeniche, ma insomma diciamo che nel secondo tempo il Pisa ha tirato i remi in bacco un po' troppo presto, ha ceduto il possesso del pallone, ha ceduto metti di campo al Cosenza, che è una squadra che sicuramente non sono fatte due volte quando si tratta di creare gioco, di fare il possesso palle, di spostare davanti proprio il baricento, il pareggio può essere anche casuale, ma è figlio del fatto comunque che il Pisa sta già facendo un ottimo campionato, ci sono tante assenze, specialmente ovviamente quelli tra moni su tutte in attacco, la coperta non è lunghissima, non è troppo qualitativa ed è chiaro che alla fine può capitare magari anche se fosse finita 2-1, comunque la flessione nel secondo tempo era evidente, ma ripetiamo, sia Pisa che Spezia stanno facendo un ottimo campionato, non sono sicuramente questi i risultati a dare, a inficiare la marcia alla squadra di Zaghi e d'Angelo, vedremo se riusciranno a tenere il passo di Cremonese e probabilmente anche Palermo, perché Palermo sicuramente ora si è sbloccato battendo lo Spezia, ma è una squadra che meriterebbe più punti di quelli che hanno in classifica per le occasioni create e per la qualità delle prestazioni fornite, quindi Cremonese e Palermo in questo momento sono le squadre che possono anche reinserirsi benissimo nella lotta per la promozione diretta. Cade anche il Cesena nella quinta forza del campionato contro il Frosinone e questo ci permette di riallacciarci alla colla classifica, la classifica si accorce ulteriormente nella zona bassa perché il crollo e il suttiro, il pareggio di Cittadella che insomma non riesce a sbloccarsi in casa e si fa imporre il padre alla Juve Stabia, la vittoria, la prima vittoria casalinga stagionale nel Frosinone proprio contro il Cesena accorce nella classifica, ci sono tre squadre a 13 punti che chiudono, c'è la Reggiana poco su che non sa più vincere, la Calarese stesa nettamente da una Serenitana che con la curva di Colantuono sembra essersi liberata, sembra avere trovato magari un modulo, un 3-5-2 più magari in linea anche con il momento sia psicologico che con le caratteristiche della squadra e anche la prestazione con il suo sforo al di là della goleata subita nel finale è stata discreta, la Serenitana può benissimo magari anche inserirsi per un campionato tranquillo e quindi la classifica in coda si accorce, addirittura praticamente compreso il Mantova che ha 18 punti ma comunque le ultime 10 sono raccolte in 4 punti, tutto può succedere, il capito di servizi conferma imprevedibile, molto incerto, quindi fra le squadre che lottano, che non sono molto lontane dalla zona play-out c'è anche la Sampdoria che ormai con la parziale risalita di Palermo e Cremonese è l'unica grande veramente in crisi, la squadra di Sottile rischia la sconfitta contro il Catanzaro dopo è stata avanti due volte, la salva il giovane Leonardo negli ultimissimi minuti, Catanzaro trascinato da Superi e Mello si può mangiare un po' le mani, la Sampdoria non è riuscita, non riesce proprio a svoltare, contestazione alla società, all'allenatore, diciamo che evidentemente non era questo l'assetto base che la società aveva pensato all'inizio della stagione, magari con la gumina, con secolo titolari, Coda si è infortunato, non è sempre stato convincente, Tutino, anche lui insomma la convivenza con Coda va sistemata, ma in generale probabilmente una squadra che non era, non è riuscita a colmare col mercato il gap dalle prime, insomma dallo stesso sassuolo, ma anche sostanzialmente dalla Cremonese il gap dalle prime e anche dal Pida insomma che comunque ha giocato, gioca sempre sull'aria dell'entusiasmo, la Sampdoria in questo momento deve riporre nei cassetti i sogni di promozione e anche di inserimento in zona playoff, vedremo se ci saranno nuovi cambi in panchina, ma diciamo che una squadra sicuramente il cambio dell'allenatore non è servito, non ha dato rascossa, ci sono un po' di equivoci anche dopo il mercato, un mercato che probabilmente ha badato più all'attacco che agli altri reparti, tanti errori anche in fase difensiva, in questo momento la stagione non è compromessa ma è complicata e ricordiamo che il calendario non viene in soccorso perché il prossimo avversario della Sampdoria sarà proprio il sassuolo, vedremo insomma cosa riuscirà a fare la squadra di Sottil in un campionato che si conferma incerto, in coda specialmente, in testa a parte del sassuolo la classifica si accorcia e la Cremonese promette di tornare in corsa per la pronunzione diretta. Ci aggiorniamo ovviamente per la prossima settimana dopo la sedicesima giornata e vedremo se proseguirà anche la corsa in un'altra squadra in grande forma, il Bari, chiudiamo con una citazione della squadra di Longo che è in serie utile da 11 partite, assiorato alla vittoria, Brescia, una traversa, il rigore sbagliato e quindi la squadra che è lì ormai è a un punto da quinto posto, vince poco ma insomma è una squadra molto solida che nonostante non abbia la qualità delle prime, Longo è riuscito a creare un gruppo solido, a dare oltre magari limiti individuali come possono essere quelli dell'attacco, Lasagna e Novakovic comunque stanno magari anche supplendo a un Sibili che non è quello dell'anno scorso ma un Pibari è un gruppo solido, anche qui non concede molto allo spettacolo però punta sempre a fare la partita e i risultati si stanno vedendo, quindi molta vitalità in zona playoff e una squadra che promette di fare il vuoto, ci aggiorniamo la settimana prossima dopo la sedicesima giornata.